Rita Borsellino, eurodeputata per il Partito Democratico, è scesa da Strasburgo, da Bruxelles, dove svolge la sua attività ogni settimana, nella Sicilia orientale per parlare del suo partito, che come voi sapete è alla vigilia delle primarie, si deve eleggere il nuovo segretario. Rita Borsellino non ha voluto fare una propaganda spicciola, però ha parlato ovviamente a favore della lista in cui è la stessa iscritta, la lista che per il segretario attuale, cioè Franceschini, ha detto che Franceschini è il segretario più giovane che il partito può avere come personaggio grintoso, perché si tratta di un partito che deve essere di centro-sinistra, ha precisato la Borsellino, un partito che non deve essere più, cioè attestato su posizioni di una sinistra ormai vetero, cioè antica, quale invece appare perlomeno su queste posizioni, cioè il Bersani, il candidato Bersani, rivale, competitore di Franceschini. Ma la Borsellino è venuta anche in Sicilia, in Sicilia orientale, per parlare anche di quello che succede a Palermo, dove il Presidente della Regione Rombardo addirittura ha voluto candidare Palermo a sede nelle Olimpiadi del 2020. Ha detto che la Borsellino è una barzelletta questa, perché bisogna pensare a cose molto più serie, più drammatiche, bisogna dare occupazione alla gente, il resto, ha detto, i giochi, le Olimpiadi vengono dopo. In ogni caso sono ragioni ben più profonde, prima di spendere soldi di quel tipo. Ma ha anche detto un'altra cosa, cioè ha detto che l'Unione Europea stanzierà 370 milioni per la Sicilia, che dovrebbero essere spese in due anni. Ma che fine faranno questi 370 milioni in questo momento con una giunta, quella che è la Borsellino avversa, pur non essendo iscritta al Partito Democratico? E questa è una sottolineatura che bisogna fare. Lei fa propaganda per il Partito Democratico, ma non è nemmeno iscritta. Una cosa, e poi in conclusione è una cosa importante, lei ha detto che il Partito Democratico, se volesse veramente un partito nuovo che deve aggregare il centro-sinistra, deve essere un partito che non può fare alleanza con l'unione di centro rappresentata in Sicilia da Cuffara.